Viaggiavano con 34 kg di hashish nascosti in valigia, a sorprendere da restare due giovani di 19 e 20 anni residenti in provincia di Roma, lungo l'autostrada del Sole, la polizia stradale. I due amici di ritorno dall'estero stavano percorrendo la carreggiata a sud della 1 a bordo di una lancia Ypsilon quando sono stati fermati dagli agenti della sottosezione di battifolle. Alla richiesta dei motivi del loro viaggio però non hanno fornito spiegazioni convincenti mostrando invece un nervosismo che ha di fatto sospettito i poliziotti. Quindi è scattata la perquisizione dell'auto. Dalle valigie riposte nel portabagagli sono saltati fuori ben 340 panetti di hashish da 100 grammi l'uno, tutti avvolti con celofan trasparente. Colti sul fatto i due giovani sono stati arrestati e portati in carcere ad Arezzo mentre l'auto e 34 kg di sostanza stupefacente sono stati sequestrati per la successiva confisca.